Questo è il modello Jumbo, sistema a sacco continuo per la raccolta principalmente della plastica. Grazie per la visione! Il modello Jumbo è perfettamente adatto per essere abbinato ad una pressa verticale che come vedete consente di gettare rifiuti che siano carta, cartone, plastica o altri rifiuti voluminosi in maniera da compattare il rifiuto e ottenere delle balle di materiale compattato.